Un risotto avvolgente con porcini freschi e tartufo. Raccogli riso carnaroli, porcini freschi, tartufo, brodo vegetale, burro e parmigiano reggiano. Pulisci i porcini, trita il tartufo e tieni da parte. Fai tostare il riso, versaci sopra il brodo vegetale e mescola costantemente. A metà cottura, aggiungi i porcini al riso e continua a mescolare. Termina la cottura aggiungendo il tartufo, burro e parmigiano reggiano grattugiato.